...ce l'ho, con l'inserzione... vedete quanto serve poco? Richiamo? Le mani non fanno niente. Non richiamo nel senso che smesso di spingere. Attento che mi si sta per fermare, adesso spingo un po'. E lui mi ascolta. Ah, non mi ha ascoltato, metto la gamba. Fino ad ora non l'ho messa. Adesso voglio spingerlo. Gamba perché si è fermato. Ed è chiedendo in modo ripetitivo, facendo delle transizioni. Mi allungo, accorcio, mi fermo. Che lui inizia a pensare che c'è un cavaliere sopra che mi sta chiedendo qualcosa. E ci aggiustiamo. Ma se non parliamo, non ci capiamo mai. Se io mi metto un'ora, va bene, il po' lo devo fare per capire io. Io devo capire cosa vuol dire seguire il movimento. Quando l'ho capito, da lei si parte. Quindi lo seguo. Ma dopo, va, c'è tutto il resto. È solo la base. Allora, adesso allungo. Come ascolta, metto la gamba. Metto la gamba esterna per fare la velocità. Devo partire il galoppo. Adesso, cazzi, a girare. Non mi accorgiare. Passiva. E, come non faccio niente. Uh, non mi ascolta. Via, metto un po' di mano. Senti, francese. Ma se lasci per qualche giorno Merlino dalla Sara? Dovrei mettere le addrize. Continuamente, ogni istante. Ogni piccola sfumatura. Da quando si sale a quando si scende. Vieni. Hai servito a qualcosa? Sì. Chiaro? T'ho pure filmata, guarda. La teoria c'è tu. La teoria c'è. Poi comunque anche lavorare col cavallo da solo, piuttosto che in fila, cambia tutto. Certo, a volte sì. Ma invece anche no. Perché io ero da sola, ma avevo comunque quella difficoltà che lui qui perché non mi ascoltava? Che voleva venire lì. Io mi sono afflosciata. Lì! Rallentava. Dico no. Lui voleva venire da tutto. Che cosa è la fila? La fila è come la usate voi. La fila è scomoda perché voi divendete più possibile. Poi c'è chi mentalmente quando asce di fila è felice, c'è chi...